Love is in the air, puntate venerdì 29 ottobre 2021. Dopo aver ottenuto i documenti, Eda si precipita in comune per depositare i documenti prima che scada il tempo. Dato che manca ormai davvero pochissimo, la Hildiz fa davvero di tutto per arrivare in tempo e alla fine ci riesce. Il matrimonio è stato annullato a tutti gli effetti, mentre Denis prende la decisione di abbandonare Istanbul definitivamente, dato che ormai il suo scopo è irraggiungibile. Con Selim però sembra essersi instaurata una simpatia particolare. Aidan e Eifer si recano sul luogo dell'appuntamento, ma in macchina ad aspettarle. Non c'è l'uomo che era in procinto di denunciarle, ma proprio Alexander. Quest'ultimo, prima di rivelarsi, prende la busta con il denaro e successivamente si mostra ammettendo di averle ingannate soltanto per vendicarsi dell'aggressione che c'è stata ai suoi danni. Come prevedibile, le due donne iniziano a urlare e accusarlo, ma lui fugge con la busta piena di denaro. Poco tempo dopo si viene a sapere che la somma è stata donata ad alcune associazioni benefiche proprio a nome delle due. Nel frattempo la bolla a tappare, sempre più angosciata dalla presenza di Kemal. Grazie. 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 Grazie.